Prima ripresa! Prima ripresa! Prima ripresa! Muoviti davanti! Muoviti davanti! Bravo! Muoviti davanti! Diventa! Molto! Un basco! Un basco! Non va! Tieni su ste braccia! Tieni su ste braccia! Bravissimo! Bravissimo! Mode! Muoviti davanti! Non rimanere qui! Nuoviti! Pieni su ste braccia! Fine! Prima ripresa! grazie bravissimo con le bracciate bravissimo questo è il tuo questo è il tuo questo è il tuo con le bracciate con le bracciate quando si rientra bravo e rientra con le bracciate bravo bravo bravissimo bravo bravo bracciate bracciate attacca attacca va bene bravo tieni su le mani bravissimo bravo bravo no dai bravo bravo sposta e rientra con due gol sposta e rientra con due gol quando arriva quando arriva basta bravo gira i gol gira i gol gira quei gol bravo basta bracciate con due gol sposta e rientra bene bravo Basta così, va bene, bravo, le braccia alzate dentro, alza le mani e tre, ok, bravo, alza le mani, alza le mani, vieni qua con due corti vitti quando viene, stieni sulle mani, stieni sulle mani, stieni sulle mani, fine dell'incontro, anche qui il verdetto di stretta misura vince all'angolo rosso Marcocci, un applauso a Tommaso Pombani che ha soltanto 15 anni.